ah ma guarda che bei balletti la tuttissima ahahahahah no ma scusa è la nuova oh questo è la bocca bene guarda io c'è per maniera gialla vogliamo in quale è il dj ma c'è questa parola che spara ah qua siamo noi è vero la vostra mamma è il dj dj il nome d'arte dj tolato ahahah ecco dopo gli effetti di una vanaclub ma appena appena non vorrei sconvolgere la gente ma comunque stiamo tutti su un giusto ahahah tutti su youtube vedi che ti fa bene la salute che l'ha detto tanto che l'ha detto tanto ahahahahah l'ha appena data via ha detto l'ho appena data via ma è autoambulanza o autoambulanza c'è scritto però devi leggerlo dello specchio autoambulanza come cazzo qui quindi neanche la domanda auto no ma hai sentito che non è che domani non c'è la messa c'è la la preghiera della pulantina ahahahahahahah ahahahahah a me me l'hanno dato di più bevi che ti fa bene ahahah 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 cosa è questa è la festa della padana dopo il grosso di tavola male e vai con la padana è